tania l'amica di oggi ciao monica ciao 5 4 3 2 1 dimmi se la vedi e come la vedi e non la vedo sotto forma del suo aspetto attuale è un uomo ed è dentro una riserva di caccia molto bella e molto preziosa sontuosa con un lampadario cristallo e si trova in questo salone ma è come se già pensasse all'indomani che c'è la battuta di caccia in particolar modo sta pensando ai suoi cani che lo accompagneranno si dà l'autorizzazione si vedo che fa avanti indietro sul pavimento e mi fa al cenno di sì con la testa lui e lei anche cioè le si punti lei come se prendesse appunti e mentre prende appunti mi scrive sì ok perché lei si presenta anche come uomo è una vita precedente sì assolutamente certo anno nome paese zona linea temporale grigori grigori qualcosa del genere mi viene praga 1735 la nostra linea temporale si causa dell'importanza di grigori non capita quasi mai no che una vita sia così preponderante mi fa vedere questa battuta di caccia del giorno dopo lui appunto che va con i cani in questo caso mi sembra che siano le lepri che doveva cacciare gli uccelli non so che uccelli però c'è qualche problema quando spara tipo che le arrivano delle schegge e del proiettile si crea questo tipo di incidente in faccia sì e gli colpiscono l'occhio gli occhi questa è la causa esoterica della malattia rara alla cornea di Tania sì sì ed è un qualcosa che le è rimasto molto impresso perché è come se questa vita riassumesse un profondo legame da una parte con gli animali perché ai suoi cani lui era legatissimo però dall'altra uccideva degli animali e di fatto questo Grigor credo che si chiamasse così viveva proprio una sorta di conflitto dentro di sé però per tradizione familiare di molte generazioni loro cacciavano come è proseguita la vita di Grigor la fidanzata lo lascia poco prima del matrimonio perché si rende conto che deve badare a lui perché lui diventa praticamente quasi non vedente quindi ci sarebbe da riorganizzare tutta la vita lei non se la sente non è che scappa via però glielo spiega che non se la sente perché lei è molto più giovane di lui la fidanzata è qualcuno nella vita di Tania oggi? sì è il suo grande amico ex collega il collega quello che abbiamo detto che chiamiamo il collega giusto va bene lo chiamiamo nel cinema il collega insieme ai due figli e al marito di Tania i figli vengono super festeggianti un po' chiassosi come se fossero l'inizio di una festa ecco salterellando si posizionano in prima fila tutte e due e scherzando un po' fra di loro litighiando ma in maniera divertita insomma sì tutte e due il secondo è il primo il secondo è nato con la camicia perché? è proprio come dentro una perla no? la camicia perché insomma no? è quel bianco un po' trasparente che intravedi dentro il bambino ecco è proprio l'esplicitazione no? la dichiarazione di io sono una perla ed è anche vero rispetto alla questione dei poteri psichici sviluppati quindi è una perla al bambino normale sì sì assoluto vabbè chiamiamo allora tutte le perle che vogliono venire beh se sarà al solito ovviamente sì e due un po' più grandi anche di un'amica americana vabbè non è americana comunque siamo capiti viene anche la protoperla quanti sono in totale? scusa questa bambina piccola legata alla protoperla che è una perla e altri che non conosco in totale? per un totale di? 21 mi dice come numero più il bambino con la camicia sì adesso non ce l'ha più ma etericamente ce l'ha ancora eh che funge proprio anche da protezione va bene e marito viene allora è come se mi venisse il marito con dietro che porta presso l'ombra di una donna e chi è questa donna? mi sembra una persona con cui forse sta un po' legando ok vengono cioè lui è di più rispetto a lei come se una parte di questa donna viene no? una fetta lui lo vedo per intero anche se è nell'angolino in fondo va bene bene il collega esco va bene collega sì sì sicuramente sempre in prima fila però lontano dai figli di Tania ok se esiste invitiamo la fiamma di Tania ok allora secondo me non è questo ragazzo di cui abbiamo appena parlato questo collega no non so vedo che ci sono due fiamme grezze vengono nel cinema sì e appunto uno viene con questo gesto qua di farsi la sigaretta fatta a mano però non so dire se è il nuovo collega capito vabbè è quello un po' più avanti come grezza sì perché lo vedo più chiaramente ecco gli vedo proprio una caratteristica un comportamento che agisce va bene interferenze eteriche vediamo se ci sono allora c'è una volpe è una mantide venusiani venusiani quanti uno il gruppettino 5 sembrano c'è una tipo la razza del secondo universo la razza cioè il pesce che è del secondo universo ok basta mentali allora me ne da tre anche se le prime due sai che non riesco a capire se si possono incorporare l'una con l'altra o sono solo delle sfumature che però lei le suddivide perché mi dà ragnatela equivoco e puntiforme sì perché hanno dei punti in comune ragnatela equivoco però effettivamente ci sono delle differenze per cui va bene le analizziamo tre separate sì allora per quanto riguarda ragnatela mi fa vedere lei imprigionata dentro se stessa nel senso che mi fa vedere come una specie di parallelo e mi prende come esempio di confronto il figlio piccolo e me lo fa vedere avviluppato dentro la sua camicia invece lei mi fa vedere se stessa avviluppata dentro la ragnatela quindi che lei riconosce il valore no della camicia del bambino e riconosce invece il disvalore della ragnatela in cui si trova perché mentre quella camicia lì aiuta il bambino a proteggersi e a potenziarsi al contrario quella ragnatela lì la espone a vari tipi di problemi e oltretutto la depotenzia proprio nelle sue qualità nelle sue caratteristiche personali che livello e dunque 2-3 3-4 direi equivoco mi fa vedere come questa entità mentale la porti proprio ad incastrarsi e per quello che mi sembra un po' simile a ragnatela però mentre ragnatela si riferisce proprio al rapporto con se stessa equivoco si riferisce al rapporto con gli altri quindi si trova proprio all'interno di rapporti caratterizzati da dei malintesi delle incomprensioni a vari livelli perché mi fa vedere dal livello proprio familiare carnale la madre poi un altro equivoco con il marito un altro equivoco con i colleghi di lavoro un altro equivoco con il suo amico livello e qua siamo a 5 perché lei patisce molto perché è come se tutti gli equivoci si unissero fra di loro e creassero proprio una forte cassa di risonanza amplificassero questo problema per Tania puntiforme io da un certo punto di vista questa qui la considererei la principale perché fondamentalmente lei non sente di valere si sente come un puntino non sente di riuscire ad incidere veramente a portare la differenza a fare delle scelte importanti ad essere rilevante quindi si sente proprio un puntino rispetto a un'immensità che poi non è niente così però questa entità mentale la fa sentire così piccina livello secondo me questa è proprio il capostipite io direi intorno al 6 non sei in grado le dicono in casa infatti lei l'ha proprio interiorizzato questo non è solo il marito che le fa notare questo cioè alla fine questa svalutazione l'ha avuta molto dalla madre e poi dal padre perché nel suo totale silenzio nel suo totale essersene andato e alla fine è come lei non vale niente io me ne vado me ne dimentico no ho solo un puntino puoi sentire la mancanza di un puntino ma no è il rite quindi lei è in grado ma adesso lo vediamo non sei in grado una frase che conosco molto bene che non ho mai condiviso bene questa mia conoscenza passiamo alla tania vediamo cosa veri adesso me la sta un po rimbalzando sulla ragnatela sono sincera vedo che tu provi anche a infilarla all'interno sai dei pertugi no dei vari spiragli della ragnatela no per riuscire a farla ad arrivare in questo momento tania non la vedo così pronta a recepirla perché insomma si è proprio stratificata in lei questo non essere in grado molto profondo va bene impianti un disco 33 giri che le passa proprio attraverso la testa no piazzandosi così in orizzontale poi mi dà come una specie di cerchio piccolo ula hop intorno ai fianchi è sempre un cerchio che può essere quasi un bracciale però che non tocca il corpo al polso e al ginocchio destro basta tania ha un progetto e a me viene fuori non batto chiodo come non batto chiodo chi gliel'ha affibbiato c'è questo senso proprio di inconcludenza di non di non arrivare a un qualcosa di importante perché se tu inizi a battere i chiodi inizi a costruire ovviamente i chiodi che servono per creare qualcosa allora ai venusiani piace perché chiaramente questo suo senso di impotenza fa sì che loro possano meglio controllarla e cullarla facendole appunto credere che questa dimensione qui non è che sia tanto appagante no? meglio quello che propongono loro cosa propongono? una deliziosa consolazione dove da loro si attraverso di loro loro hanno un'anima no ma quindi tania anche volendo e volendosi reincarnare al prossimo giro se vorrà farlo può reincarnarsi in un venusiano no lei che è imprescindibile anima da un certo punto di vista posso dirti di sì c'è qualcuno con c'è qualcuno con l'anima lì? no tecnicamente sì ma di fatto non l'ha fatto ancora nessuno allora chiaro che se facciamo un discorso di tipo logico lineare è corretto quello che tu dici se invece ragioniamo in un'ottica multidimensionale è come se potessero coesistere delle scelte dell'anima paradossali magari fa parte dell'evoluzione dei venusiani questa fase che non è ancora avvenuta ma paradossalmente è potenzialmente possibile why not ma in questo preciso momento questi venusiani non hanno l'anima vogliono consolare cioè è come come te lo posso spiegare come se le anime in generale nel loro complesso abbiano decretato no l'esistenza di tutte le varie entità senza anima ma non incarnandosi in loro però sono comunque come dire ad appannaggio delle anime no questi venusiani cosa come vedono questa visione è qualificante per loro si sentono scoperti si sentono ringalluzziti che dice che ho capito male che loro ci aiutano come che portano pace come a Tania se Tania vuole noi la portiamo a lavorare in un posto in cui non ci sono conflitti in cambio di in cambio di tutta l'energia che ci può dare in cambio dell'aver rinunciato ad avere un incontro quotidiano con il suo grande amico ma qui hai la pace la pace che è il capo dei venusiani come si chiama vabbè adesso mi dice solo v60 donna uomo potrei dirti più femminile come parvenza si vabbè questa parentesi venusiana mi è annoiato completamente non so potremmo anche andare lì a mettere un po' di cose vogliono no grazie ma loro non sono alla ricerca dell'energia una d'eterno ma è un emettitore di energia sì vero personale sì vero che crea l'universo della persona che lo dell'anima che lo crea insomma comunque energia non la vogliono una bomba atomica nel loro plastico per quello ci aiuta Putin cioè penso che ci sia un sodalizio beh allora la vogliono non la vogliono non la vogliono non la vogliono non la vogliono però io ho voglia di mettergliela perché insomma non capisco perché loro possono interferire questi e quegli altri quando poi di fatto questi e quegli altri sono i capi hanno l'anima sono i creatori di questo gioco e quindi i capi non possono fare quello che gli pare i capi fanno quello che gli pare io faccio quello che mi pare quindi oggi mi sono alzato con l'idea metto una d'eternum nella casa dei venusiani chi me lo impedisce nessuno i venusiani sono miei quindi basta fatto messo blu gigante bianco e sta lì per sempre perché mi andava così fanno gli dei ti va lo fai sembra quasi la bomba di Hiroshima tutti che scappano e vedo questo V60 e che dice hai vinto una battaglia non la guerra va bene forte di questa affermazione pioggia eterna di ad eternum sulla pianeta dei venusiani pioggia eterna perché mi va vanno nel sottosuolo si bella come fossero insetti all'eternum adesso che cascano dal cielo che penetrano nel suolo nell'acqua ovunque cento milioni di volte più forti di quelli che abbiamo appena puntato giù che succede perché mi va faccio perché mi va è come se questi ad eternum interrompessero i cunicoli quindi andasse a cedere il terreno e per cui loro rimangono bloccati non possono più scappare e V60 cosa fa? e V60 lo vedo anche un po' poco coraggioso perché utilizza gli altri come scudo per proteggersi visto che l'ad eternum fa effetto tempo fa effetto scusa ti sei bloccata fa effetto per molto tempo no fa effetto prima appunto sugli altri e lui prende tempo in questo modo che bello che ti sei bloccata come mai ti sei bloccata è perché loro ci sono va bene Tania vede tutto questo come? sai che cosa? adesso mi è venuto un brividino no? la vedo che sta diminuendo l'entità mentale puntiforme perché come se dicesse a se stessa cavolo grazie a me hanno potuto fare questo lavoro io gli ho dato questo spunto a loro magari alla fine della sessione annulliamo tutto e lei se vuole lo rifà sì per ora è salita con i piedi sulla sua entità puntiforme sai no come comunque dominarla e ad abbassarla schiacciandola eh sì causa esoterica allora della malattia rara la cornea l'abbiamo vista la vita precedente e dell'essere mancina oh mamma aspetta che prima l'avevo anche vista adesso mi è scappato eh allora dunque ehm allora e vi fa vedere come effettivamente da piccola specie nell'ambito religioso che è la maggiore oppressione no? della bellezza umana e le veniva impedito di utilizzare la mano sinistra veniva forzata no? ad usare la mano destra perché in effetti ehm essendo lei spontaneamente portata eh a scrivere con la sinistra mhm era come se mh in un certo senso ehm eh andasse a potenziare il suo emisfero destro quello proprio della creatività della fantasia dell'intuizione c'era come un rafforzamento più eh lei scrive utilizza la mano sinistra più l'emisfero destro eh si attiva ehm e ehm aumenta ecco la sua capacità le sue potenzialità ed è per questo che volevano assolutamente frenarla e bloccarla ok caso sotterega di questi qua la porta aiuto aiuto e e e e e e e no 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 è una cosa doppia come un po' in diverse cose di di Tania c'è un aspetto eh di ostacolo ma dietro all'ostacolo c'è l'enorme opportunità causa sotterega della sua timidezza ehm la sua entità mentale ragnatela che poi lei ha proprio visualizzato in un sogno perché lei si è proprio vista no questa ragnatela cioè è una cosa sì è una cosa veramente eh importante ecco che denota che effettivamente lei ha delle delle forti qualità e c'è lei che si è creata questa ragnatela intorno che le rende difficoltose eh le comunicazioni e le rende difficoltose farsi conoscere per quello che lei realmente è ehm è lei che si autosabota proprio grazie a questa ragnatela che quasi assomiglia anche un po' per certi aspetti quasi a quella rete che mette intorno ai salami no ecco che che la venitiva ma non troppo si esce un po' ma non da scappare no si ascolta ma non parla allora diciamo che queste sono sono un po' la con partecipazioni di tutte le entità mentali lei non ritiene di avere diritto di parola adesso sembra un po' troppo forte forse questa affermazione però per lei è più conveniente ascoltare perché le sue parole in fin dei conti potrebbero non essere così importanti quelle degli altri potrebbero esserlo di più appunto per la sua entità mentale puntiforme e allo stesso tempo questo atteggiamento di ascoltare e non parlare va ovviamente ad alimentare per esempio l'equivoco l'entità mentale equivoco perché chiaramente se lei non si esprime non si spiega si va a creare il fraintendimento dall'altra parte non la possono capire se lei non si spiega quindi lei rimane imprigionata in questa ragnatela che in questo caso per esempio è anche il silenzio paura e allora qua per esempio appena mi hai detto paura mi viene papà e il fatto che lei sia stata diciamo abbandonata no perché insomma il papà è andato via che lei era molto piccola è come se l'avesse lasciata un po' come una bambina da un certo punto di vista a un'età lei ancora praticamente neanche andava a scuola in cui hai essenzialmente bisogno degli adulti intorno perché da sola non ce la puoi fare e invece è rimasta con una madre con cui ha sempre avuto un rapporto difficile problematico e questa paura è proprio questa incertezza questo sentirsi smarrita e fragile come una bambina la madre viene nella cinema allora la vedo un po' umorale che ha tratti un po' isterica un po' così no cioè che magari ci sono dei momenti in cui è tranquilla poi di colpo le parte la brocca viene? sì sì viene e dice tieni conto però che io ho marito e ho la famiglia a casa e quindi? e quindi la mia attenzione e il mio tempo sono parziali va bene se sono parziale può anche andare non è un problema questa è un'opportunità d'oro stare nel cinema sentirsi dire una cosa del genere a me non interessa un gran che è pur sempre mia figlia in un modo o nell'altro no no si viene qui per se stessi non la vedo così pronta per un lavoro su se stessa sai è come se fosse molto portata verso l'esterno e poco verso l'interno e tende molto io vedo ad attribuire le colpe agli altri tende molto in generale a vivere su ciò che è fuori si guarda molto poco dentro non so se ora è il momento giusto per lei per questo momento così profondo ok padre è come se fosse fuori dal cinema con l'orecchio attaccato ad ascoltare penso che ne abbia passate parecchie in questi anni sue personali di vicissitudini e quindi è come se fosse anche un po' stanco della vita e perciò vuole ascoltare ma allo stesso tempo non ha il coraggio fino in fondo di entrare perché significerebbe comunque affrontare una sua vigliaccheria quindi cosa fa resta fuori ad aurigliare eh sì davvero? sì contento lui il collega lo vedo molto pensieroso è come se gli frullassero mille cose per la testa nel senso che è vero che sta facendo tanto per se stesso lui sta facendo un profondo lavoro su di sé ma si rende conto che deve fare tanto e non lo sta facendo con leggerezza non è che sto dicendo che lo deve fare con superficialità però potrebbe farlo non in maniera così immersiva da isolarsi da chiudersi e invece lui sceglie questa modalità sai considera che anche Tania è un po' così tende comunque a chiudersi non non si espone un granché nella sua emotività nei suoi pensieri più profondi lui anche e poi in particolar modo in questo momento in cui sta cercando le cause prime mi dice i massimi sistemi quando magari è tutto più semplice tutti nel cinema tutti a vedere l'arrivo di tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Tania e della sua famiglia sia di origine che attuale quindi se vogliamo ne beneficia anche il marito microfono due microfoni nonno materno e zia del marito posso solo dire un'ultima cosa riguarda questo ragazzo ex collega che è come se mi facesse i gesti con le mani perché insiste mi fa vedere 5-4 mi fa vedere che loro a un certo punto sono state anime affini a livello 5 c'era una grande intesa un grande scambio ed è come se ci fosse una sorta di retrocessione adesso sono 4 adesso è 4 sì diciamo che però lui potrebbe anche un attimino registrarsi diversamente ok andrebbero diversamente le cose fra loro due potrebbero anche registrarsi perché seriamente approcciarsi con lei sì se quando si dice di andare a registrare le gomme il motore ecco potrebbe settarsi in maniera differente in quel caso loro ritornerebbero a 5 in realtà tutte e due si stanno un po' comportando nella stessa maniera sia Tania che lui scusami chiamiamo lo zio la zia del marito e il nonno materno di Tania allora la zia del marito ti ricordi hai visto che ti sono venuta in sogno e ti sei ricordata è come se desse un valore al sogno che Tania ha fatto e al fatto che se lo sia ricordato perché l'informazione che mi trasferisce è che a volte noi persone non ci ricordiamo questi sogni pur avendoli e quindi è come se facesse una sorta di nota di merito a Tania per essersene anche ricordata oltre ad averla accolta nel suo sogno se ne è ricordata Tania e lei fa questo apprezzamento nonno materno ma senti io nonno materno tutto sommato lo vedo non so più dolce e più femminile rispetto alla mamma di Tania perlomeno nei confronti di Tania come se avesse assorbito un po' di più delle qualità femminili che invece la madre di Tania non ha esternato nei suoi confronti c'è un messaggio che vuole lasciare il nonno lei dice sembri un'orfanella se non lo sei ma non lo è diamogli una vic a questo nonno è forte perché è proprio come un dialogo fra le anime come se fossero un vortice l'anima di Tania l'anima del nonno e mi fa vedere anche l'anima della mamma quindi in questo momento c'è questo vortice di anime anche se appunto il nonno è disincarnato però mi fa vedere questo vortice in cui sento un dialogo di accordo è come loro prima dell'incarnazione che si se la raccontano e dicono ti ricordi quando ci siamo messi d'accordo in questa maniera tale per cui lei sarebbe stata la mamma distratta aggressiva a volte sminuente poi si aggiunge in questo vortice l'anima del padre e io il padre che ti abbandonava e vedo appunto che in questo vortice ruota anche ovviamente l'anima di tania quali quanti altri parenti accorrono davanti al portale definitivo il portale auguro allora qua me ne da tanti non so se lei ha a che fare in qualche modo con il suo lavoro con magari sono degli uffici attivi in cui in qualche modo non so perché si registrano tante persone no e quindi come se queste anime fossero legate al posto in cui si sono registrate vuoi per nascita vuoi per morte tanto che a me ne da 880 un'anagrafe è così ce ne tanti per questo va bene li mandiamo tutti nel portale aura e vedo che il nonno materno è come se le bisbigliasse e non sei mai sola che il nonno materno sia la fonte dei dei consigli più ideali no e c'è era il barco ormai del portale aureo e si era pressoché svestito no di tutto quanto e vedo che è proprio quasi immediato cioè come se il tempo non esistesse appena varcano il portale aureo e si spogliano di tutto quanto quindi capiscono molte più cose ok quindi ha un po' più senso va bene lo chiudiamo Monica causa esoterica del sognare così tanto e del sognare precisi dettagli della nascita dei figli lei ha l'emisfero destro veramente molto attivo che è anche quello della preveggenza la capacità di vedere nel futuro che poi è sempre tutto contemporaneo è passato presente futuro però per questa dimensione che noi abbiamo scelto sono separati questi tre momenti e quindi lei ha questo emisfero in grado proprio e lo esprime soprattutto attraverso i sogni di anticipare gli eventi di vederli prima che accadano è una sua attitudine dei sogni che le indicano una strada ma poi si interrompono sul più bello allora lì per esempio mi fa vedere i venusiani che le mettono tipo un velo nel proseguo del sogno è come se mettessero sopra un velo per cui lei non vede il velo che lei ha sulla vista vedo che i venusiani glielo mettono nel sogno e quindi di fatto a volte in verità il sogno prosegue ma è come se venisse saltata la parte più importante e la percezione quindi che lei ha è che il sogno si sia interrotto bruscamente in realtà a volte il sogno è come se si cambiasse direzione per non darle quella che è la risposta la soluzione che lei aspetta e che di fatto io vedo che se lei chiedesse con autenticità e intensità la sua anima lei invece le ottiene delle risposte nei sogni perché il sogno è proprio il suo canale espressivo per entrare in contatto con la propria anima lei sogni se li ricorda e sono sogni importanti qual è il ruolo di questo marito allora sono proprio male assortiti loro due sono proprio all'insegna della sua entità mentale equivoco che d'altronde rafforza l'altra entità mentale sia ragnatela che puntiforme è stato fatto una specie di contratto fra loro due nel momento in cui lei sentiva molto di valere poco da un paio d'anni a questa parte lei ha iniziato a prendere consapevolezza di una serie di cose e quindi questa presa di consapevolezza fa sì che lei non possa più avvalorare quel contratto preso prima quando era ad un altro livello di consapevolezza è come se il ruolo del marito fosse finito aveva un senso prima perché lei era proprio incastrata in tutta questa famiglia che non l'aveva amata in queste entità mentali che la tiravano molto giù però adesso non ci sta più questo gioco qui c'è tant'è che lei a un certo punto stranamente rispetto a quello che lei è abituata a fare si è sfogata col marito ha detto come per lei le cose stanno quindi è proprio uscita dalla sua ragnatela il litigio sì quello è stato infatti fondamentale a cambiare un pochettino l'atteggiamento del marito anche se il marito poi è quello che è però ovviamente la vista la differenza lei che usciva dalla ragnatela la vista ragnatela è 3-4 oggi prima del litigio quanto stava? c'erano dei momenti in cui questa ragnatela diventava proprio quasi un bozzolo più che una ragnatela e poteva anche essere sette in alcuni momenti va bene Tania non è nata con la camicia suo figlio sì vuole dirle qualcosa il figlio numero 2 nato con la camicia nonché perla è come se scorresse dentro le sue vene la vita pura i veri ingredienti della vita ecco e vorrebbe poter dare questa essenza di vita alla mamma perché non è che lui vuole utilizzare delle parole vorrebbero proprio trasferirle ecco come una sorta di trasfusione questa vita alla mamma queste informazioni di vita alla mamma ok allora facciamogli se no mi sembra che sia il giudizio universale no? il fresco dell'indice di dio che tocca l'indice di non lo so dell'uomo forse dell'uomo facciamo toccare i due indici di madre e figlio figlio nato con la camicia si crea come una sorta di corrente questa corrente propaga le informazioni dal figlio alla mamma da indice a indice è come se le trasmettesse questi valori di bellezza di bellezza di gioia di perfezione della vita percepire la perfezione della vita che non è che tutto va bene nella vita ma percepirla come perfetta è diverso come se le trasferisse proprio queste onde di gioia in questa corrente di contatto fra indice cappella sistina michelangelo che lancia il firmamento di tania e una perla suo figlio cosa fa tania ora che ha questa opportunità di dare una grande accelerata al suo percorso di seguire la strada della fiamma la fiamma vera se vorrà di trovare piatta d'abito sai nel momento in cui ha ricevuto queste informazioni sotto forma di scossa elettrica ha abbandonato il suo abito nero e ne ha uno colorato di tanti colori molto vitale e così aghindata cosa fa intanto vedo che prende in braccio il figlio è come se dicesse cioè accipicchia tanto mi sono scelta una famiglia che mi ha tra virgolette tolto di la madre il marito il padre c'è tanta abbondanza mi sono regalata con te e con tuo fratello e quindi che fa dove va vedo che rimette il bambino giù e dice adesso devo andare a fare un'altra cosa dopo torno ed è come se fosse non so una sorta di di regina perché ha questo abito molto lungo con lo strascico e va verso il cluster e me lo rappresenta proprio come tante dune all'interno di un deserto sai perché sono tutti questi granellini di sabbia che ricordano proprio questo suo puntiforme forse ha dato questa sensazione che piano piano costituiscono un grosso peso beh certo ricoprono tutto lì per lì come se fosse imbarazzata e dice ma come faccia a togliere un deserto lei si ricorda i venusiani peraltro io annullo tutto quello che ho fatto lei se lo vuole fare lo farà come o similmente o differentemente da come l'ho fatto io si ricorda certo ok e non riesce a togliere un po' di dune di sabbia cosa vuole usare paletta e scopetta una pinzetta che riesce a prendere un grandello di sabbia alla volta un cucchiaino da dessert o l'intento posso usare un intento aspirapolvere certo e quindi utilizza questo tubo di questi aspiratori molto moderni potenti molto silenzioso come lei e vedo che aspira tutto quanto e decide di buttare via pure l'aspirapolvere che contiene al suo interno adesso tutto il deserto e lo butta dentro il portale definitivo ok senza creare nulla può andare all'avatar ed eliminarlo in modo analogo o in modo definitivo e adesso visto che creiamo di creiamo 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 sempre in modo diverso tre tania si divide in tre posti diversi uno è venere uno il cluster e uno è l'avatar e vi faccia quello che vuole non ho capito perché si porta dietro un albero mi fa vedere da sotto dalle radici vedo tutto il tronco altissimo e poi vedo la insomma l'ombrello diciamo così il fogliame dell'albero come se lo portasse su venere è come se scegliesse di stabilire l'ordine naturale ecco mi utilizza questo simbolo per dire io adesso stabilisco l'ordine naturale e nel momento in cui lei pianta su venere questo albero non so si disintegra tutto il resto e gli abitanti i venusiani e rimane questo maestoso albero il suo ad eternum è un albero si la capocchia dell'albero proprio infatti è così arrotondata e nell'avatar 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 è come se adesso una manata l'avatar e nel momento in cui appoggia la mano da lì si sprigiona la ad eternum che è bianchissimo con delle venature gialle ottimo con questa azione non batto chiodo esiste ancora no la regnatela l'equivoco il puntiforme le tre entità mentali tutte quelle eteriche e gli impianti esistono ancora no nuova frequenza e vecchia frequenza perché non te l'ho chiesta allora aspetta allora prima era 6 ora mi dà 158 consapevolezza 135 137 195 la psd adesso tanto non è così importante quella che aveva all'inizio 53 le vite prima dopo allora prima era 2335 1850 qualcosa cervello prima dopo non era malissimo 7.8 9.3 va bene messaggio del figlio del primo figlio alla mamma che bello che ci hai creati proprio tu del secondo io sono una perla ma tu sei mia mamma lo vedo molto gioioso nel dire questo del collega l'ex collega un amico sì 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 troviamo il modo per ritrovarci della fiamma se c'è e se ce n'è una se no di entrambe erano due non mi sembra grezza allora è come se al momento rimanessero così grezze perché comunque lei è abbastanza focalizzata su quello che già c'è ecco per cui non vedo che emergono bisogna dare anche la possibilità no al processo fiamma che avvenga e lei in questo momento è concentrata su altro quindi non è ancora grezza sì quelle sono rimaste grezze io dico che però appunto lei è fatta di gradualità cioè non è dall'esplosione improvvisa quindi è come se lei avesse bisogno di una serie di step nella conoscenza anche un po' per una sorta di sua diffidenza però penso che lei potrà avere nuove alleanze nuove anime affini vicino a lei e allo stesso tempo riprendere anche il rapporto con l'amico ex collega scusami non ex amico ma l'amico collega con un senso neanche a pagarli e questa razza del secondo universo infatti la vedo proprio che è come rivoltata nel senso che ha smesso quell'atteggiamento passivo che prima aveva perché era un po' come se subisse gli eventi capito una cosa andava male ah vabbè allora lascio il posto di lavoro vado ad un'altra parte e lui lo sento allontanare ah vabbè lascio che si allontani capito smette questo atteggiamento di passività e la vedo proprio rinforzata la vedo nella possibilità di prendere le redini della sua vita in mano il timone proprio della sua vita in mano mi fa proprio vedere lei su una nave con il timone bene mentre lì che guida la nave col timone in mano si lascia un messaggio mi sto orizzontando mi oriento e più mi oriento e più capisco dove andare e più capisco che la nave è mia il mare è mio la direzione è mia è un'immagine molto bella lei intanto la vedo in costume come se il sole che in certo senso proprio anche il maschile la andasse a baciare la pelle la sento proprio rivitalizzata con molta più fiducia più energia è evidente è molto più bella frequenza finale 197 le 21 perle che fanno nel cinema è proprio un tripudio una super festa è come se la portassero in trionfo ecco come a una regata loro che fanno il tifo B cosa fa e lui è un po' sai l'animatore della festa quasi organizza dei balletti dei movimenti che poi gli altri seguono è molto giocoso come sempre va bene abbiamo finito sei pronta a tornare Monica? sì